Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus Siamo addirittura di arrivo, siamo arrivati all'ultimo episodio Gwempul Completato al 100% Ultimo personaggio per ciò che riguarda questi livelli Naturalmente, commento che vi invito, come stiamo a mettere un po' in su, un commento, un mi piace Siamo sempre qui su Lego Marvel Super Hero 2 Oggi ci andiamo a fare party in piscina Mi raccomando perché non è difficile, qua è facile Ma sto episodio è una figata pazzesca Non ho raccolto una mazza, a parte vero Avenger Ma non è un problema Detto questo, ci buttiamo in partita, ci scegliamo un personaggio a caso Partiamo con Mock Knight E ci vediamo direttamente in partita Ok, ci siamo Non so perché, a me sta scena mi ricorda molto Splatoon Ah, quanto mi piace Splatoon Perchetto Porca paletta che sulla Switch non so perché ci abbiamo problema con la team E quindi non riusciamo a giocare online Vabbè Non fa niente Già ve l'ho spiegata questa cosa di Splatoon A cui ho provato a giocare Vabbè, ci facciamo un po' di spazio innanzitutto Perchè ci danno un po' di fastidio questi tizi Ok, bravo E poi iniziamo la caccia Allora Dobbiamo entrare in questo fantastico acquario Quindi iniziamo a rompere un po' di tutto Ok Perfetto Cambiamo personaggio Vai Miss Marvel, dai Allora qua dentro Mi serve Un personaggio Aspetta Qua Si Allora c'è un problema Come cavolo facciamo Aspetta che forse qua dentro dovremmo selezionare Fammi beccare un attimo Dottor Strange Vediamo un po' No Aspetta Nonostante sia uno stregone Allora si iniziamo Perfetto Dobbiamo impossessarci della mente di uno di questi Ok Rompiamo Vai E qui dovrebbe esserci il mattoncino rosa Ok Il primo mattoncino c'è La prima cosa l'abbiamo becchiata A questo punto ci conviene uscire Da questo acquario Ok Poi tra l'altro è una figata pazzesca Ok Sembrava che uscisse dall'altra parte Ok vabbè Non fa niente Poi ci vuole qualcuno Che sappia tipo volare Perché dobbiamo andare Ammazza Non c'è nessuno che vola Fantastico Vabbè Non fa niente Ci becchiamo un attimo Che ne so Dammi Vabbè Dammi l'ottor Strange Andiamo qua sopra Aspetta che qua mi serve tipo Un Black Panther Vai Black E infatti Avete sentito già che in pratica ci sta Stan lì Che rompe le scatole Allora Mio caro Stan Vediamo di liberarti Ammazza Sai che mal di testa che c'è là dentro Stan Proprio Ah ok Qua invece c'è bisogno di Capitan America Devo essere pronto Vai bene anche tu Vai Ok Non lo so ragazzi Non lo so Mi raccomando vera vengere ragazzi Mi raccomando vera vengere Sì vabbè Quindi anche se lì l'abbiamo toccato Poi ci buttiamo un attimo Il nostro fantastico Iron Man Ci buttiamo qua dentro Perché è una figata pazzesca Qua non si becca niente Cioè niente Vi beccate le monetine Che poi non è niente male Poi Ce ne andiamo Da quest'altra parte Io sto distruggendo Perché Per ricordarvi Serve che dovete sbloccare Per la ranger Tremendamente Se non mi sbaglio è qua Aspettate Ora vediamo A volte mi guardo alcune cose E poi mi scordo E quindi Restiamo fregati E anche qua Proviamo a rompere Ma altro poco Ma forse qua Non si è rotto bene Aspettate Ok Si è rotto Mancava ancora un pezzo Che ancora non si è rotto A volte è strano Però bisogna forse Schiantarsi Ci mettiamo qua dentro Vai a Groot Ok Potevamo utilizzare Potevamo utilizzare Anche Gli smart Verde non fa niente Ok Mi sa che devo girare D'altra parte Ok perfetto La direzione Sembra quella giusta Oh Personaggio Qualcuno di voi Si getti subito dentro Oh Non sembra male Questo personaggio Sono curioso di vedere Alla fine Che cosa abbiamo sblocchiato Vi ricordo sempre Di sbloccare Veravanger Sono state Fottuti Detto questo Ci vediamo Alla fine Per vedere Che cosa abbiamo sblocchiato Ok Anche questo L'abbiamo completato Che poi tra l'altro È L'ultimo livello Gwepul Che ci dà la possibilità Di sbloccare Un nuovo personaggio E anche Anche altrimenti Un personaggio Cioè Un nuovo mattoncino Ok Veravanger L'abbiamo sblocchiato Comunque questo livello È bellissimo Non me lo ricordavo Così bello Poi Mattoncino rosa Che abbiamo sblocchiato Vediamo un po' Modalità Squadra Ah Anche questo Questo mi pare Non averlo mai utilizzato Stelli l'abbiamo sblocchiato Personaggio sblocchiato Invece C'aveva una testa Molto grande Non sono riuscita a capire bene Qual è Ah no Pensavo che fosse Vabbè Misterio Bel personaggio Chissà quanto costerà Vabbè Tanto soldi Ne abbiamo veramente A raffica Ok ragazzi Anche questo L'abbiamo completato Al 100% Quindi Il prossimo video Quello che sarà Sarà quello In cui vi mostrerò Tutti i personaggi E sapete benissimo Se mi state seguendo Che per farvi vedere Tutti i personaggi Vi mostrerò Una fantastica Live Così magari Li possiamo vedere insieme E naturalmente Discutere Se il personaggio È bello È figo Fa schifo Può essere migliorato Chi può dirlo Naturalmente Come passate In un video Come stiamo a mettere Poi c'è il zoom Per il commento Mi piace Non vi preoccupate Perché vi farò sapere Con anticipo Quando farò la live Per mostrarvi Tutti i personaggi Quindi seguitemi Attenzione Poi vi perdete la live Ed state fregati Detto questo Ci vediamo Siamo al prossimo video Ciao